Dopo 21 giorni, esattamente, anche questa galina viene nata ai pulcini e qua dentro ha suon di musica Radio Gasle, la radio per sempre, Radio Gasle, Radio Gasle Tratto dalla radio sul web, Radio Gasle Ora vi parlo di aloe vera, la conoscete questa pianta? Sicuramente sì perché ci sono molte persone che ne parlano Attualmente sembra che sia una moda Radio Gasle, la radio per sempre, Radio Gasle Io con l'inglese non è che ci vado tanto d'accordo Radio Gasle, la radio per sempre, Radio Gasle Prima di intera fare il trattamento a lui, voglio fare una piccola parentesi per i maschietti E nel viso, una piccola noce di questo latte detergente Lo emulsionate bene nelle mani, ve lo stendete Faceable Without a reason why They say cause life is Immancabilmente, dopo 21 giorni nasce i pulcini, non sgarra mai, c'erano due, e due sono. Appena nati, il secondo è nato oggi, probabilmente ieri è nato l'altro. Appena nati, non sgarra mai, non sgarra mai, non sgarra mai, non sgarra mai. Appena nati, non sgarra mai, non sgarra mai, non sgarra mai. La musica a filo di fusione. In tutto il laghetto, il palco, i giochi. Sì, è il secondo giorno. Il secondo giorno, già cominciano a girare, fare il bagnetto di sabbia. E sempre a son di musica. La musica a filo di sabbia. 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 Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao, quando la natura, quando la vita nasce ogni volta. Grazie a tutti.